Comunque bello, ora lo scarico è grande, la schiacciata di Lesfini. Buona aver benvenuti, situazione di palla, Roberts, scarico per Pecker, che la schiaccia! Benissimo come tramuntata in olo, colato per la sua spalla, questa è una grandissima spalla. Ecco dove ti dico che Steven può rimanere ai margini del gioco. Ancora con il palleggio Jefferson, va a piazza, passa bene il blocco questa volta, con il vantaggio Jefferson, che alza la dribla, gol più 6. Penetrazione di Crow, adesso il tiro dal centro aria sbagliato, rimbalzo per noi di Sherrod, che palleggia anche nell'aria, e schiaccia! Tessitore pesa per un attivo attivo di tre punti, poi decide di penetrare e andare ad inchiodare la schiacciata. Colone si prende un tiro a tre punti, stoppato da Thomas, che corre in contropiede e va a inchiodare la schiacciata. Palla rubata da Ranuzzi, bel contropiede, passa, spettacolo puro! Un terrore, l'imbalzo di Williams, può partire il contropiede di Agrigento, Williams ancora, cross over, fa fino in fondo! Per di Williams, a schiacciare! 47-54 Per di Williams, a schiacciare!